So che ti manca molto il rapporto con tuo figlio. Qual è il ricordo più bello che hai di lui? Sono migliaia. Intanto quando è nato, poi quando giocavamo insieme, facevo delle feste per lui, i suoi apicchetti, quando dormiva con me, quando gli ho insegnato ad andare in moto, quando organizzava le piccole cenette con le prime ragazze, tutto, quando viaggiavamo insieme. Sei nonna, hai dei nipoti, ai quali sei molto legata? Riesci a vederli? Adesso sì. Le ho risentite per settembre, per un'occasione non bella, dove loro soffrivano molto e poi piano piano ho mandato dei messaggi di amore, di affetto, di disponibilità e loro mi hanno accolto con altrettanto. Grazie a tutti.